ah ecco salve a tutti sono Max ed eccoci qua a un nuovo video di Reckinder è uno strancio quindi abbiamo conosciuto Aya abbiamo scoperto che la scorsa parte c'era Aya Aya Aya, Giuro che se questa crepa mi incazzo come un un bufalo dov'è sciata? dov'è sciata questa? sono identici e più o meno potrebbe essere la sua radio o potrebbe essere sciata stessa l'identità di sciata questo è Takumi oddio Takashi a Oni mi vengono in mente i protagonisti degli altri giochi Takashi ricorda che anche Takashi era biondo Takumi vedo le persone morte no fermatemi quando dico ste cose si però io mi sto rompendo le palle a stare qua solo per dire che cazzo dovremmo fare vabbè io esco non c'è ragione per lasciare il posto e la cosa a cazzo faccio non parla con tutti quelli con cui non hai parlato con lei non assiste ci ho parlato si ci ho parlato ci ho appena parlato whatsapp ah questa girl i missing with my bell phone ah la questa deve essere la solita truzza ah questa ti morirei per prima sappilo Ray ciao ciao Ray morirei per prima ops non sono dimenticata di salvarti la vita Yoshino anzi ti chiamerò Yoshino perchè mi ricordi quella di Misao sto parlando degli altri giochi questo quindi questo è Takashi Castle di Aoni questa è Yoshino di Misao e questa è Aya di Madfather bene ci mancava ci mancava stiamo parlando di tutti quelli altri questo è Shota quello adesso non hai fatto di me ma questo non parla ma che cazzo ah ok sta riflettendo dopo che questo è carino dai è così sexy Hiroto oh Inazuma chi chiama Inazuma Eleven thank you poterci una tecnica fantastica che ne ho sa solo una volta ehm che spreco no niente effettiamo di Oto cioè che anche Oto Sheila usa solo una volta è vero fatemi uscire voglio ammazzare la gente non hai parlato un po' della sinistra no no ci ho già parlato ci ho parlato tre secondi fa quella sinistra con i capelli castani ci ho già parlato ah ok un altro discorso bene non lo sapevo è dire è di Yoshino va bene stupid thing one shell gather adept reception what is this un attacco zonde però il rumoreologio mi da i nervi però è sempre meglio della musichetta onestamente perché mi spaccato morirà ops mi sembri di capire salvarla hehehe comunque non preoccupatevi arriverà anche Misao sul canale appena riesco a riscaricarlo nessuno se lo pagherà vabbè come nessuno si caga le tue serie intanto io ci occupo di iscritti vabbè io ne ho 44 vabbè per favore vieni aspetta in che senso dai dai vieni vieni dai dai vieni vieni io penso sempre male lol ok siamo in tre ahahah cosa dai dai vieni io penso sempre male lol mi dici dei capelli castani davanti a noi vabbè ti sta inculando vabbè almeno fanno una cosa intelligente non vanno da soli però non fanno i deficienti almeno grazie prendi Aya prendi Aya con te no c'ho Shota e Takeshi e poi prende anche questo non posso ci sono divisi solo loro volevano arrivare a me andavo a questi due saluti dobbiamo andare al Dersi Shop bene è qualcosa di inquietante perché qua tutto si muove e lo sfondo è questo guarda guarda non si muove un cavolo sono sterosi merda police io non ci andrei solo per dire no mi sembra un manicomio fammi vedere a che minuto siamo dimmi che non devo scappare da mostri come i Naoni perché giuro che spraito 5 per proprio pezzi me lo sapevo la pezzi me lo sapevo la pezzi noi abbiamo fatto tre parti così e qui è la polizia ma la polizia ma la polizia se sto facendo in giro fammi fare questa è casa nostra non è quella casa nostra non è quella casa nostra no ci assomiglia però dai e e e e e e e e e entro non piace non dice che non c'è ragione ma anche non c'è ragione giustamente davanti un posto dove avendo i libri non ci mando manco io c questa è la casa nostra e va bene non manco morta mi caduta una testa prima infatti ma non puoi girare così per sempre ma io sto cercando il negozio ed è questo no aspetta leggo il cartello no adesso ci credo in testa non è cazzo mene io sto cercando un eh ecco trovato eh vai eh come faccio ad entrare dovevo andare qua ah sbaglio ho letto questo nome ah ah un negozio con un nome scarico cosa vuol dire hug con la perchè con la u è abbracci vedi qua dice un negozio con un nome spaventoso dovevo andare qui dentro non deve andare qui dentro ma ma come dove cazzo cosa cazzo devo fare ah vaffanculo come mi ha slittato che mi son preso un colpo sto servendo ogni 3 secondi giuro cosa cos'è questa roba bene ah c'ho una tensione che te non ti immagini un gioco con una grafica che lascia un desiderio ma che ti fa cagare allo stesso si è vero perchè prima non mi aspettavo la testa perchè dopo quel tutto bel di dio che è bello che è vero quella è casa tua lo sai non è casa mia si è quella casa tua no perchè ti ricordi che c'era la strada con la puttana ti sta sbagliando che casa mia è questa è quell'altra perchè ti ricordi che venivamo da che che abbiamo fatto qua abbiamo preso l'autobus ok lui è un genio perchè noi stavamo vagando da mezz'ora siamo tornati indietro abbiamo chiesto era la lag qua e alla fine abbiamo detto forse è la casa della telefonica ma tipo questi bambini andare via in altra città no chiamiamola mi raccomando chiamate questa mi raccomando i protagonisti ah fanno carta carta farbici sasso per chi deve telefonare shesha ah 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 Takeshi perdi sempre ma non ho soldi ma immaginavo ah you can have mine ah che dolce te ne avevano 120 li avevano spesi prima ok thanks all right go e così morì no fia no fia interessante beh interessante non sto leggendo un cavolo onestamente non sto leggendo un cavolo secondo me il che c'è dei capelli biondi uscire a morte ma anch'io l'ho detto e Takeshi cavolo e Takeshi o Takeshi si è impiccato wow me l'aspettavo ma anch'io non può essere così facile non può essere così facile l'ho detto rip in pace Takeshi prima a morire ma poveri bambini sono traumatizzati colpa sua che abita che abita fosse fuori eh non può essere 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 io ho solo parlato con a Takumi e ora lui e Mami era solo perchè 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 son bravissimo a leggere perchè perchè Takumi eh l'ho detto era Takeshi era destinato a morire era Takeshi infatti gli ho dato il nome di Takeshi perchè mi immaginavo già che moriva non lo so eh è sfigato ci immaginati se andavamo noi mi fa sfigato assoluto no non lo so io io non lo so non potrei sapere non potrei sapere ma che cavolo di inglese vamo a scantare cosa vamo a scantare vamo a scantare na 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 e samba ok sta musica è oltrafatta che è fighissima ti ricordi questo? quello che ha ammazzato all'uomo ok sta musica è fighissima questo episodio lo chiamo lo chiamo vamo a scantare giuro sta musica è bellissima cioè dopo una morte ti mettono sta musica ti sollevi di morire assolutamente eh ho decennato non so niente da cui mi sono niente eh non so niente chi sei tu? me ne hai messi yui è il fratello di tsuruki non sei spaventato? ha ammazzato un uomo sto stronzo ma lui è bello allegro guarda guarda no use the gink no use the gink no use the gink let it rip cioè lui ha la colonna sonona anche cioè è figo lui lui dice è figo eh si la spina risma c'è si si c'è una croce perchè ma lui è figo c'è la soundtrack ha ammazzato un uomo è bello come il sole lì vai lì vai lì vai secondo me lui è uno stronzo e alla fine sarà il cattivo ci sconto quel che ne voglia e non lasciatelo entrare dentro no, inizia la musica figa Takumi è morto aveva solo provato a chiamare, appunto, non doveva chiamare il compo so che ha vinto la carta stessa fatica no, ha perso no, ha vinto, per questo è chiaro eh, no, no, ha perso, ti ricordi che ha detto allo, ho perso è per questo che è andato, chi ci perdeva andava dentro che sfiga e perché sono bravissimo a leggere a dare a parte, sono fantastico Mori fatemi calpestarlo, fatemelo calpestarlo no, anche lui, Laura di Mugnetka, ma porca perché c'è una croce, perché ma qua c'è un foglietto, facciamo un foglietto che non capisco dopo il poverino, dai, poverino io mi ricordo il video dopo, poverino io mi perderò in sta città, ne sono certa si, si, ma è facile in alto mi ha salvato prima come è andata? non ne parliamo Pakeshi è morto tutto bene scusate ma sono belli come il sole il loro amico è morto, sono belli come il sole è morto dove è andato Takumi? oddio adesso diteglielo che è morto stanno andando avanti è morto, guarda, guarda le loro facce le loro facce sono bellissime almeno che mi sono un po' di sentimenti davvero? no, per finta, è andato appendo una lattina di coca, guarda non sto mentendo Takumi mi è stato felicemente stupiato dalla costruzione telefonica che bello mi sa che non uscirà morto, pum, morto no, no, mai non Takumi, eh, Takashi Kastelmore non anche Takumi boh, cattiva fortuna stronza morirai anche te largata a un tavolo e torturata dal padre di Aya eh, cattiva fortuna sfortuna è colpa sua è lì che ha perso è colpa sua mi è giusto che giocherasse il gioco vicino all'eroggi ah, non lo chiedeva non lo chiedeva eh, siccome faceva i capelli di Aya mi è vero, ok, guarda, questa ti sono miglia, sentì oh, da 16 minuti finiamo il discorso aspetta Punishman? che cazzo ok che cazzo che cazzo e ci vediamo al prossimo video baciami tutti ciao ciao Perché ci siamo tutti?